L'Italia del merito e del talento è quella che si propone di raccontare e valorizzare il premio eccellenza italiana giunto alla nona edizione. Nato negli Stati Uniti si celebra ogni anno nella settimana dedicata a Cristoforo Colombo. La cerimonia di premiazione ha coinvolto associazioni, enti, aziende, professionisti italiani nel mondo e amanti della nostra cultura e del nostro paese con un ponte mediatico tra Roma e Washington. Il premio punta a valorizzare anche la sostenibilità. Attesta il valore degli italiani nel mondo, dell'italianità, perché sono convinto che esista una via italiana alla sostenibilità che noi siamo in grado di affermare, se facciamo squadra, se facciamo rete, soprattutto in un tempo che cambia. Testimonianza della nostra vicinanza agli imprenditori italiani da proiettarli e farli inserire negli Stati Uniti. Tra i premiati esponenti di diversi ambiti, imprese, medicina, gastronomia, ambientalismo, arte e artigianato.